Siamo ai piedi della Pineta di Roio, ci troviamo in un sentiero sulla strada che dà dall'Aquila fin sopra appunto alla Pineta e in questo momento c'è un incendio che sta vedendo tutto il fronte aquilano della montagna in fiamme, circa dalle due e mezza di oggi pomeriggio. Sul posto ci sono protezione civile, diversi mezzi dei vigili del fuoco e sono passate anche la uso cisterne dell'esercito. Le strade fin sopra il paese di Roio sono tutte quante interdette al traffico, ci sono i mezzi della municipale che sbarrano la strada e per adesso è tutto.